Salve, sono Maria Anastasi, consulente immobiliare della Remax Quattro Pareti di Messina. Ho un nuovo appena messo in vendita per voi. Si tratta di una villaschiera a Savonara Marittima in provincia di Messina. È un immobile molto interessante su due livelli, con giardino e cantina per 156 metri quadri commerciali. Guardiamo insieme qualche immagine e a presto verrà altre novità. Grazie per la visione! Grazie a tutti Grazie a tutti